Il raduno delle macchine storiche ai piedi del castello. Ok amici del fatto oniseno, del fatto del ballone, siamo qui ai piedi del castello manfredonico dove è previsto il raduno delle macchine storiche. Ecco vediamo un po' io vedo fra il gruppo l'assessore al turismo Sebbi Loconte ecco dopo la foto di gruppo lo facciamo parlare e vediamo un po' la manifestazione di questa mattinata in che cosa consiste, vedete intanto, il castello manfredonico in questa giornata delle 9 aprile 2022 raduno di macchine storiche ecco a son di tromba qui ai piedi del castello e allora assessore Loconte vediamo un po' stamattina cosa si prevede in questo fine settimana del 9 aprile 2022 come ho detto poc' anzi siamo ai piedi del castello manfredonico ancora una volta il castello fa parlare dice Sì, buongiorno Gio Carmelo, buongiorno a tutti gli amici che ci stanno ascoltando del fatto del ballone, il gioceremo la disponibilità del nostro caro signor Barba abbiamo come ha detto bene lei all'inizio un bel fine settimana qui ai piedi del nostro castello nella cornice del nostro bel castello e con la giornata di oggi con questo raduno di macchine d'epoca organizzata da qui presente dal dottore Falletto un grande appassionato di macchine d'epoca non so adesso vi dirà quante macchine d'epoca collezione e quindi questo ci fa piacere quindi io non voglio dediarvi più di tanto perché poi lascerò parlare il dottore il dottore Falletto e oltre alla giornata di oggi domani abbiamo questa la 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 gara di mountain bike che ormai già come voi già conoscete già pubblicizzata bene quindi vi aspettiamo più tardi per venire per venire ad ammirare queste belle auto e domani alle 9 per l'inizio della della gara di mountain bike grazie ancora e buona giornata a tutti e buon fine settimana ecco dopo l'assessore allo sport di Sebillo Conte vediamo un po' cosa ci dirà di queste macchine storiche di questo raduno mi presento mi sembra la prima cosa sono Vincenzo Falletta e io faccio il medico da 45 anni quindi mi sembra opportuno presentarmi in questo modo perché la passione che mi lega alle auto storiche è probabilmente coeva con quello che è stato l'inizio della mia professione sono il presidente del club grifone auto e moto d'epoca di Palermo che è un club federato con l'automotoclub storico italiano in questi due giorni cioè sabato anche domenica 9 e 10 aprile in sinergia con il comune di Mussomere con l'assessore che ho appena parlato prima di me abbiamo organizzato una manifestazione nazionale che rientra nel calendario delle manifestazioni per autodepoca organizzato dall'ASI ma questa tappa a Mussomere è una tappa che sicuramente dà particolare importanza al nostro club, alla nostra manifestazione, alle nostre iniziative perché per quello che ritengo io la sinergia tra quelli che possono essere gli interessi legati al motorismo storico ma sicuramente alla cultura del territorio eccetera è fondamentale e per questo chiaramente la scoperta o la visita di luoghi che sono interessanti dal punto di vista storico-culturale quindi noi oggi saremo qui a Mussomere, visiteremo il castello manfredonico che è sempre ricco di storia, di cultura, di fascino, di bellezza siamo stati accolti in maniera magnifica dai castellani, dai musicanti è una cosa bellissima perché la coreografia da dare a queste cose qua secondo me è sempre estremamente importante spero, siamo tra le varie cose che ho organizzato, c'era anche il buon tempo spero che tenga meteorologicamente parlato quante macchine ecco si prevedono che saranno in esposizione? noi ci stiamo portando appresso da Palermo, una ventina di auto ci hanno raggiunto qui 5 equipaggi da Siracusa, da Caltanissetta domani nel pomeriggio ne arriveranno altri da Caltanissetta e domani ne aspettiamo altri quindi penso una trentina, 30-35 equipaggi saremo domani al completo domani c'è una manifestazione, perché la manifestazione si chiama il sesto trofeo di Città di Campofranco che è un paese che ha dato l'origine alla mia famiglia tra l'altro e di cui io sono estremamente innamorato tra virgolette posso dire una cosa personale perché nella concomitanza di questa manifestazione il comune di Campofranco ha deciso di conferirmi la cittadinanza onoraria io sono nato a Palermo ma sono estremamente legato al comune di Campofranco perché è il paese della famiglia di mio padre ed è mia amica dalla paella ovviamente e io anche dal punto di vista professionale ho operato per tanti anni a Campofranco con una serie di strutture sanitarie che sono state il mio orgoglio e la mia soddisfazione professionale ok io ecco dica dica l'assessore mi aveva chiesto di chiedermi quante auto io preferisco evitare di dirlo diciamo che sono tante una trentina io ho un piccolo museo personale di auto che vanno dagli anni 30 agli anni 70 ma una curiosità io sono abbastanza curioso la macchina più storica che oggi poi si potrà ammirare la macchina più storica purtroppo allora le dico una cosa erano previste due macchine particolarmente importanti dal punto di vista storico una degli anni 40 e una Jaguar purtroppo ha dovuto dare forfè perché la vecchiaia comporta anche la possibilità che possa rinascere un problema all'ultimo momento e una mia autovettura che secondo me è la più bella non perché la mia è una Lancia Aurelia P20 S ieri sera ha detto no io ormai non posso venire e quindi l'abbiamo costretto a preverire il riposo a preverire il riposo a preverire il riposo sì per il weekend questo weekend sono impegnato mi ha detto quindi la macchina più importante dal punto di vista storico qui le direi una sciocchezza probabilmente la più antica cioè la più antica è una 11103 del 53 e poi c'erano tutte auto degli anni 60 e 70 lo andiamo oltre ovviamente anche perché io lo ritengo storico anche queste quelle più moderne sono una cosa un po' diversa secondo me forse perché sono vecchietto io perfetto ok assessore e allora visto che è bravo il nostro ordinatore eh sì ha illustrato appunto la manifestazione questo raduno di oggi abbiamo altre cose da vedere io lo dico ringrazio sempre la provoco perché è sempre in prima linea con il comune di Mussomeli qui rappresentato dal vicepresidente Giuseppe Lomuzzo che è anche loro organizzatore dell'evento di oggi e dell'evento di domani Giuseppe Ocea è il vicepresidente della provoco è anche un grande sportivo tra gli organizzatori della gara che ci sarà domani Giuseppe vuoi che tu sei più tecnico vuoi illustrare i nostri amici che ci stanno ascoltando di cosa si tratta domani? sì domani ci sarà un campionato regionale una prova unica Allianz 3 Allianz MTB XICO del castello che organizziamo già da tre anni e che ospita gli atleti di tutta la Sicilia e i ragazzi esordienti una gara importante a livello regionale già gli atleti sono qua che provano il percorso quindi pomeriggio avranno un bolleggiale e la manifestazione sarà un po' a livello e non mezzo e allora un fine settimana ricco di eventi ricco di eventi e impegnati ora il professor Palletti mi diceva posso dire un'altra cosa? vorrei aggiungere una cosa se possibile ecco in considerazione del fatto che non so se ci stanno vedendo in diretta o comunque in ogni caso sicuramente saremo visti da tante persone per tutto il ruolo io vorrei invitare tutti coloro forse che fossero interessati al pomeriggio di oggi nel centro di Campofranco ci sarà una bella quota della nostra manifestazione con un concorso di eleganza con una giuria che è stata già eletta parzialmente che verrà eletta tra i ragazzi del istituto personale di Stato è una cosa interessante perché sarà una bella passerella quindi se qualcuno vorrà venirci a trovare sarà per loro un piacere ovviamente grazie ok allora noi facciamo un giro qui ai piedi del castello vediamo domani mattina l'appuntamento a domani mattina all'anno saremo presenti per un po' per un po' per una breve postazione ecco all'inizio della manifestazione la partenza la batteria sarà alla notte poi ce ne saranno altre due una l'unici su dieci a tre va bene buon fine settimana a tutti ok ok grazie grazie che noi vediamo un po' facciamo un giro con il piazzale del castello con le macchine una ventina di macchine storica domani la manifestazione di domani di questa gara di montebaric anche questa ai piedi del castello una ventina di macchine in tutto di queste macchine storiche ecco siamo in diretta ecco da dove venite? da Trapani mi vuole illustrare questa sua macchina come no è una Fiat 1100 il modello è uscito nel 1953 è la prima volta che la Fiat utilizzava una scocca portante cioè senza i famosi longheroni di ferro eccetera per alleggerire la macchina è una macchina molto diffusa è stata la macchina della famiglia degli anni 50 ha un motore 1100 con 36 cavalli freni a tamburo posti abbastanza comodi sia davanti che dietro con sedile unico ecco da quanto tempo siete in viaggio ecco quanto avete impiegato da Trapani siamo partiti stamattina alle 7 e un quarto da Trapani abbiamo incontrato il gruppo a Palermo abbiamo incontrato il gruppo a Palermo e poi ci siamo accodati a loro per arrivare qui ok grazie grazie di questa intervista vediamo un po' altre macchine questa macchina ne vediamo un po' ciao 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 rattasi di una beta Monte Carlo Spider da quanto tempo lei c'ha questa macchina dal 1981 da quando questa macchina partecipando al rally di monte carlo fu campione del mondo guardi venga qua la caratteristica di questa macchina è di avere il motore con la ruota di scorta posteriore vuole che glielo apra ecco sì sì faccia ecco e c'è l'esposizione c'è l'esposizione la caratteristica la ruota di scorta è sul motore a doppio carburatore c'è un arsenale qui lei è un appassionato di queste macchine io sì sì da quando sono andato in pensione ho trovato questo bellissimo hobby adesso ho questa macchina ma ne ho una del 1928 una de desoto una torpedo lei conosce la canzone vengo a prenderti stasera con la mia torpedo le dico solo una cosa che quando io partecipo a questi raduni è come se uscissi da quel bosco fitto e buio che è la vita quotidiana quindi un raduno atteso sì poi quando ci sono questi raduni è come se raggiungessi una radura una radura passano i raggi solari illuminano il mio viso è una gioia la tristezza e poi quella di tornare alla vita quotidiana e allora benvengono questi raduni sì ma lei in che veste è presente? sì ecco noi questa intervista la stiamo facendo sul fatto nisseno sul fatto del bellone una testata giornalistica la conosco del fatto nisseno la conosco ecco questo e facciamolo al nostro ci sono appassionato in particolare per i dati del covid quotidiani nella nostra provincia ecco perfetto perfetto ecco la ringrazio è stato gentilissimo è stato gentilissimo complimenti ok grazie a chiuderemo vediamo un po' l'andato che ci sono gli amanti che hanno un debate che domani sicuramente parteciperanno a questa gara quindi un fine settimana a Mussomeli abbastanza movimentare una ventina di macchine qui nella esposizione ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.